Il 20 dicembre 2001 il Papa dichiara che consta del miracolo operato da Dio per intercessione del beato Pio da Pietrelcina, della celere perfetta e duratura guarigione del bambino Matteo Pio Colella. Da qualche minuto è terminata la lettura del presento di canonizzazione del nostro compratego il beato Padre Pio. Si è orato e benedetto e ringraziato il nostro cuore carico di emozione e di grande gioia. Durante il concistoro pubblico del 26 febbraio il Papa rivela la data della canonizzazione 16 giugno 2002. Dinanzi ad un'immensa folla che inonda Piazza San Pietro, Via della Conciliazione e l'area intorno a Castel Sant'Angelo, il 16 giugno 2002 Giovanni Paolo II dichiara e definisce santo il beato Pio da Pietrelcina. San Pietro, il 16 giugno 2002. San Pietro, il 16 giugno 2002. San Pietro, il 16 giugno 2002.